Facciamo una fotografica? No, noi vediamo dal look, è la prima volta. C'è una foto? 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 Non è? Grazie! La prima! Questo dov'è? Non fa male il mio padre, non fa male il mio padre. Non fa male il mio padre, non fa male il mio padre. Non fa male il mio padre, non fa male il mio padre. Un pesce. A noi! Un pesce nell'acquario. Grazie Marco! Grazie Marco! No, aspetta! No, venite! Tutto bello? Ci siamo a Versailles, a posizione Mancunas. Che io adesso? Non lo faccio, poi. Vai, io vi lo saluto. Che cosa hai da domani? Fa cosa hai da domani? No, una tappa, c'è un'alto. No, non ci sono. Marco! Ari! dai ragazzi sono aereo, fa niente grazie